TG Economia Di questo parleremo, di questa iniziativa che unisce dalla più piccola start-up fino alla più grande impresa. Quindi le aziende attive nel settore della distribuzione del gas, il caso di Prometeo Estra. Una buona parte delle aziende qui presenti sono già nostri clienti e l'occasione è stata quella di rafforzare, di ripresentarci, ristringerci la mano ed avere quindi un'occasione di consolidamento. E poi tante altre aziende e anche potenziali fornitori che sono qua presenti sono state occasioni di un primo incontro.